Noi, chi ci può rappresentare al meglio in Europa, ce l'abbiamo e ce l'abbiamo sul nostro territorio, è Nicola! Forza Nicola Caputo, portiamolo in Europa tutti insieme con forza e con determinazione! Oggi parte la mia campagna elettorale, qui con tanti amici che mi accompagnano in questo percorso, una campagna elettorale importante nella lista Stati Uniti d'Europa che ha nel proprio simbolo il programma delle attività che intende mettere in campo, soprattutto un rafforzamento dell'infrastruttura istituzionale dell'Unione Europea. Io ovviamente mi candido per rappresentare gli interessi del Sud, delle sei regioni del Sud che compongono il collegio meridionale che voglio ricordare sono Campania, Calabria, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia e soprattutto mi candido anche per rappresentare adeguatamente gli interessi del mondo agricolo, del mondo della pesca, delle aree interne. Noi dobbiamo cambiare approccio, dobbiamo farci sentire di più in Europa. Quando sono stato parlamentare europeo ho cercato di portare più Europa nel Sud, sono venuti tanti commissari europei e farò lo stesso ponendo davvero al centro dell'agenda politica le istanze dei cittadini delle sei regioni del Sud. Grazie per la visione!